sul palco le sei miss le sei miss sul palco perché è arrivato il momento della premiazione vorrei sul palco con le nostre miss due cantanti della mia scuderia che sono Giulia Gombi e Samuele dov'è Samuele? vieni, eccole qua allineatevi allora Samuele tu hai il compito di dare questo che è il premio Giulia è il compito di dare questo allora io scendo uno scalino, vado bene? così vi vedete bene? allora hanno partecipato con tanta simpatia e allegria per loro è stato un gioco una cosa per avvietare il pubblico di stasera un grande divertimento però naturalmente solo una di loro vince allora vince un soggiorno per due persone presso un centro termale, fitness, massaggi, tutto ok? non dico i punti visto che comunque arrivate tutte seconde a pari merito vince col maggior numero di cartoline la numero 2 ma questo è il premio ma questo è il premio naturalmente bisogna informare con la miss e nonna di quest'anno la fascia ecco qua facciamo le foto benissimo allora io ringrazio Punto Verde di Mariottini Marcella di Notica che ci ha dato la possibilità di organizzare questa bellissima serata vi siete divertite? sì tantissimo la rifacciamo? riparteciperete? signori Barbara, Maria, Celeste, Marisa e Rosanna e la vincitrice Vania, Miss 9 2015 grazie di aver parte citato grazie a tutti buona notte ciao Google we are the champions we are the champions no time for losing no time for losing we are the champions we are the champions we are the champions we are the35 my friends